Ci troviamo all'interno del negozio Bonomarca Iacuzzi W&B in pieno centro Milano, siamo con il presidente EMEA dell'azienda e rivolgiamo alcune domande. Iacuzzi è famosa da oltre 60 anni e leader mondiale per il benessere per le spa sia indoor che outdoor. Qua alle nostre spalle troviamo un bellissimo esempio di spa per giardino. Qual è la vostra gamma a riguardo? Noi abbiamo una gamma molto completa per l'outdoor, queste si chiamano spa o idromassaggio da esterno ed è una gamma che copre più bisogni del consumatore. Chi ha bisogno di benessere con idromassaggio per parti del corpo ben mirate, piuttosto che si vuole rilassare o recuperare dopo un'attività sportiva e naturalmente dobbiamo ricordare che una spa o un idromassaggio da esterno ha 38 gradi e di conseguenza questa acqua calda è perfetta soprattutto da utilizzare nei momenti serali o nei periodi freddi. Sono infatti dei prodotti che si utilizzano tutto l'anno. Quanto conta per voi a livello mondiale il business delle spa per outdoor? Siete ovviamente più famosi e famosi soprattutto per le vasche da interno. Sì, diciamo che il business del mondo dell'idromassaggio da esterno delle spa è nato nel Nord America qualche decennio fa, poi piano piano è arrivato in Europa e adesso è il cuore del mercato europeo dell'idromassaggio. Questo perché? Questo perché il consumatore ha sempre più bisogno di benessere e quindi chi ha la possibilità di avere un giardino oppure di vivere in città con un terrazzo ecco che vive il terrazzo o vive il giardino in una nostra jacuzzi. Il trend è una crescita veramente a doppia cifra, con trend molto importanti ed è ormai un mercato che dall'Inghilterra alla Scandinavia al Portogallo all'Italia va bene sia per il privato che nel mondo hospitality, come lo definiamo noi, ovvero negli alberghi. Qual è il vostro utente finale tipo e soprattutto all'interno della vostra gamma per che tipo di spazi sono pensati? Qual è ad esempio la metratura minima per avere anche una spa piuttosto piccola da una a due persone e fino a che punto arrivate e potete spingere in spa allo spuose e soprattutto ampie? Guardi, il mercato si sta evolvendo, è in crescita come ho appena accennato e il mondo delle famiglie è il nostro mondo. Naturalmente questo per i privati ma anche per l'hospitality, per gli alberghi queste spa vengono utilizzate per dare un servizio importante all'albergo e naturalmente la jacuzzi con il marchio che abbiamo definisce tutta la qualità del servizio dell'albergo stesso e per questo abbiamo un grande successo nel mondo alberghiero. Spazi possono andare da due metri per due a 200-500 metri quadri. Oltre a un negozio come questo che abbiamo appena descritto brevemente quindi monomarca, jacuzzi, dove altro si possono trovare? Cioè, quali sono i vostri canali distributivi per questi prodotti? Diciamo che la nostra distribuzione a livello europeo si identifica nelle vendite delle spa attraverso dei canali distributivi specializzati e noi li chiamiamo JVS o JSS, sono jacuzzi wellness spa store dove c'è un servizio a 360 gradi per il consumatore o per l'hospitality riguardo al mondo benessere di jacuzzi. In fase di progettazione di un giardino nuovo, di oro, anche spazioso quanto conta, quanto vale il ruolo e la maestranza dell'architetto del verde cioè di colui che progetta prima che sia realizzato lo spazio verde? L'architetto paesaggista, secondo noi, avrà un valore e un'importanza sempre più alta in futuro il mondo verde, il mondo benessere diventerà sempre più importante all'interno di una casa all'interno di una villa, all'interno di una struttura ricettiva come un albergo e di conseguenza noi abbiamo iniziato a lavorare negli ultimi anni sempre più in simbiosi con gli architetti paesaggisti e così via e riescono a integrare sempre meglio all'interno delle piccole abitazioni piuttosto che dei grandi alberghi i nostri prodotti e naturalmente il senso di design, di qualità, di immagine che un architetto paesaggista può dare all'interno di un giardino e così via fa parte integrante del vivere la jacuzzi in un sogno Io la ringrazio molto per l'intervista, grazie Grazie a lei